Facciamo un raviolo aperto, innovazione e tradizione. Il nostro tirapasta. Questa è una dedica naturalmente che faccio al mio mestolo, al signor Marchesi. Le due foglie di prezzemolo, stiamo a fare un altro passaggio. Le nostre sfoglie in acqua bollente salata. E decola qua, la nostra sfoglia. Nella sua modernità questo piatto ha tracciato una nuova linea della cucina italiana.